Un settore che prima dell'avvento dell'industria pesante era stato trainante per secoli per l'economia di Gela. Un settore che durante l'epopea della raffinazione petrolifera in città ha continuato a dare lavoro a tante famiglie gelesi nonostante fosse stato letteralmente dimenticato dalla politica. Un settore che ora che l'industria ha sbaraccato potrebbe tornare a fare da volano alla ripresa di una città piegata dalla più grave crisi economica della sua storia moderna. L'agricoltura, questo settore spesso sottovalutato e non attenzionato per come merita, è stata al centro della puntata di Agora andata in onda ieri sera su Canale 10. Il rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico della nostra emittente se ne è occupato con un parterre di ospiti di primissimo livello. A dibattere di agricoltura e soprattutto di come la si può e la si deve rilanciare in città sono stati i vertici dell'amministrazione comunale e quindi il sindaco Domenico Messinese ed il suo vice Simone Siciliano che detiene anche la delega assessoriare al ramo. E quindi i capigruppo consigliari del PD Vincenzo Cirignotta e del Movimento 5 Stelle Vincenzo Giudice. Ed ancora l'imprenditore agricolo Giuseppe Bevilacqua e per finire la presidente dell'associazione Demetra e Core, Giorgia Cavallo, associazione che sta organizzando una tre giorni di feste, sagre e convegni con tema centrale proprio l'agricoltura e le sue peculiarità locali. Il dibattito di Agora si è incentrato sia sulle leggi comunitarie che stanno portando al collasso il tessuto agricolo del meridione d'Italia in particolare, come l'ultimo decreto che abbattendo i dazi doganali permetterà all'olio tunisino di invadere i mercati nazionali a discapito delle produzioni nostrane, sia sugli interventi che a livello comunale possono e devono essere adottati per ridare dignità e speranza ai produttori agricoli locali. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agora potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su Canale 10, oppure già dalle prossime ore sui nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata, come sempre con ospiti ed argomenti che riguardano Gela ed i Gelesi.